Battuta al cinghiale con la squadra di Vescovato di Murlo Buongiorno, oggi ci troviamo in Toscana a fare una bella battuta al cinghiale vedete che panorama che abbiamo oggi, con la nebbia, con il nostro amico Fabio che stiamo ascoltando vediamo un po' quello che succede, i cinghiali ce ne sono parecchi, adesso vedremo più avanti se riusciamo a battere qualche capo buongiorno, eccoci, qui possiamo vedere il nostro amico Ugo pronto e anche gli altri amici stiamo aspettando che arriva Mauro che ci porta alle poste e adesso Ugo ci farà un bel saluto ciao Ugo, buongiorno e in bocca al lupo naturalmente e niente, speriamo di riuscire a fare qualche bel abbattimento, qualche bel filmatino la squadra cinghiale è la squadra di Vescovato di Murlo e buona visione a tutti eccoci qua, finalmente è arrivato Mauro e Claudio che ci porteranno alle poste e metteranno una posta alla volta spiegandogli bene come si svolge la cacciata e dove si può tirare e dove non si può tirare e molto professionalmente piano piano tutti in silenzio andiamo verso le poste e così una bella mattinata in mezzo alla natura mentre ci avviamo alle poste come potete vedere il nostro amico Fabio ci indica un passetto dove passano i cinghiali e quindi si notano parecchie impronte nel terreno e quindi si spera che sono rimasti dentro la macchia che ci siano per fare una bella battuta sicuramente i cinghiali ci sono e niente, continuiamo a camminare per arrivare alle nostre poste eccoci qui, finalmente sono stato assegnato alla mia posta adesso armo la mia carabina Browning e mi preparo per aspettare il cinghiale intanto finisco di mettere i colpi nel caricatore metto la carabina in sicura e attento ecco qui potete vedere lo spazio mio per poter sparare questo qui davanti vediamo un po', vediamo bene ecco, ecco Ugo che viene a trovarmi si fa una passeggiatira dopo due ore di attesa però i cinghiali non sono usciti a noi abbiamo avuto parecchie canizze davanti ma non sono usciti, Ugo è venuto a prendere uno snack un po' di cioccolata che ci fa bene perché oggi c'è una bella umidità abbastanza freschino e niente, attendiamo, ci sono stati fatti parecchi abbattimenti però non noi, ci sono passati alle altre poste i cinghiali è finita la cacciata vedremo quanti abbattimenti sono stati fatti è finita la prima battuta e adesso tutti a pranzo e poi ci sarà la seconda la prima battuta è andata bene, sono stati abbattuti 10 capi e adesso faremo quella pometrigiana e vediamo come va a finire e si torna dopo una giornata di caccia torniamo buonasera è finita anche quella meridiana come vedete ci troviamo la stanza dove si preparano i cinghiali adesso i nostri amici li sezionano li peseranno, faranno le parti per ognuno dei cacciatori che stavano nella battuta e noi ritorniamo a Roma e arrivederci a tutti, ci vediamo la prossima volta speriamo bene